Nel mondo dell'atletica io corro con una persona a fianco a me, proprio perché essendo non vedente corriamo attaccati a un cordino con un'altra persona, che si chiama Atleta Guida. Questa figura purtroppo non sempre è presente nel nostro mondo, nella nostra realtà, perché è una figura totalmente volontaria. In tanti anni in cui ho avuto l'assenza di questa figura c'è stato il mio compagno che mi è stato davvero di grande supporto, perché senza di lui probabilmente oggi avrei smesso. E proprio attraverso la nostra unione molto forte, attraverso anche la passione che noi abbiamo in comune, perché anche lui è un atleta paralimpico e anche lui si allenava insieme a me, e quindi attraverso il nostro supporto reciproco poi abbiamo creato questo progetto chiamato La Coppia dei Sogni. Attraverso proprio queste due parole chiave, coppia e sogni, si racchiudono davvero dei significati importanti, perché la coppia è la complicità tra di noi e i sogni sono quelli che insieme volevamo raggiungere.